Aquilani, Totti, fra due uomini, perde il pallone, Cacca, Alessio Conti per noi. Se il quarto uomo Scuditi ha ripreso a te Sandro. Attenzione Manzini dopo il numero di Aquilani, in mezzo, c'è Totti, Rete, Rete, la Roma torna in vantaggio! Straordinario gol, straordinario gol dall'inizio del tocco magico di Aquilani, col tacco alla Maradona, palla per Totti e la Roma torna in vantaggio. Eh sì, un gol strepitoso, ha approfittato di uno svarione della difesa rossonera, spazi larghi e nella retroguardia di Ancelotti e un'azione strepitosa con i tempi perfetti e Aquilani poi ha fatto veramente, ha avuto un impatto sulla gara notevole, giocatore di alta qualità che ha anche forza fisica, cross nel mezzo perfetto di Manzini e Totti è lì pronto, doppietta per lui. Rivediamo, rivediamo, guardate Aquilani, incredibile numero, bravissimo Manzini, ho qualche dubbio sulla posizione di Totti, da rivedere da un'altra posizione se possibile, però Roma reattiva ancora una volta nella ripartenza, d'altra parte dopo il gol di Brocchi, dopo l'1-1 è stata la Roma a rendersi più pericolosa in tante occasioni. Vediamo da questa inquadratura la posizione di Totti, è regolare, è regolare. Era dietro la linea di l'estero. Regolarissimo, il gol di Totti.